Dopo due anni di interruzione, la rassegna dedicata alle musiche della Settimana Santa è stata ripresa domenica 5 marzo. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, avviste il gruppo strumentale Sicilia e Musica di Caltanissette esibirsi con 5 marce nella suggestiva cornice della chiesa di San Giuseppe. Il maestro Salvatore Bonaffini, alla guida del gruppo, ha saputo regalare al pubblico presente un'esperienza musicale coinvolgente e di grande valore artistico. La rassegna è dedicata al commendatore Giuseppe Portoleva, scomparso nel 2008, figura di spicco e stancabile organizzatore della sfilata della Real Maestranza. Ospite della serata, il maestro modicano Francesco Di Pietro. Finalmente, dopo il periodo di sosta forzata, abbiamo potuto riprendere la nostra rassegna, giunta alla undicesima edizione, anche se in realtà con l'edizione zero che abbiamo proposto all'inizio e quindi corrisponde essere alla dodicesima edizione. La rassegna è dedicata alle musiche della settimana santa che ormai, come da tradizione, risuonano in questa acustica, in questa chiesa magnifica di San Giuseppe che ormai ci ospita da anni. La partecipazione del maestro Di Pietro che ci ha onorato della sua presenza e si aggiunge agli esimi maestri che si sono succeduti nella direzione del nostro concerto della Passione. Il maestro Oddo, il maestro Miraglia, il maestro Cecere, il maestro Barbara che sono stati presenti nelle edizioni precedenti. Ho trovato un gruppo fantastico che ha subito saputo interpretare nella maniera giusta i brani che abbiamo suonato ed è stato un piacere veramente essere qui. Come ha detto il maestro Bonafini, c'è una bella acustica e una bella presenza di pubblico attentissimo e particolarmente emozionato.